Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7.08, mercoledì 17 aprile, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, qui su Crystal Radio Milano, 96.2 FM, DAB Plus e tutto il corollario di applicazioni, smart speaker, il DAB l'ho detto, l'ho detto il DAB, il DAB con la radio digitale che avete in macchina senza sapere di averlo, quello lì, proprio lì, sì, potete ascoltarci ovunque voi andiate, in giro Milano, in Lombardia, perché noi siamo con voi, e anzi voi siete con me, grazie mille, della vostra compagnia, 331-78-535-555, il numero di Whatsapp a cui potete scriverci e con cui potete condividere la vostra giornata, la vostra mattinata, che inizia appunto adesso con Good Morning Milano, 17 aprile, tanti auguri a Victoria Adams, chi è Victoria Adams? La Victoria delle Spice Girls, è proprio lei, sì, Victoria Adams ha l'anagrafe, poi Beckham, Beckham dopo, ma Victoria Adams, sapete quanti anni fa? 50 anni, ebbene sì, quindi tante candeline oggi per Victoria, per la Spice, come era? Posh, Posh Spice, lei era giusto, penso fosse quella, giusto, sì, e insomma, si fa capire anche quanto tempo fa ascoltavamo le Spice Girls, sì, ebbene sì, insomma, è passato un bel po' di tempo, ma, insomma, rimane comunque un momento importante, almeno non solo nella vostra vita, ma nella mia vita sicuramente non ero un grande fan, nel senso, era più una roba da ragazzine dell'epoca, di quando ascoltavo le Spice Girls, ma, insomma, è sempre stata una bella, una bella esperienza, vivere quel momento tra i Take Death da una parte, le Spice Girls dall'altra, poi c'erano anche di più alternative, io ascoltavo le TLC, ve le ricordate, c'erano quelle, ma adesso invece ascoltiamo le Spice Girls, tutti insieme. E tanti auguri a Posh Spice, tanti auguri a Spice Girls, tanti auguri a Victoria Adams, anzi, Victoria Beckham, al secolo Victoria Adams, oggi, appunto, mercoledì 17 aprile, 50 anni per la Spice Girls, Vicky. Comunque, allora, andiamo un po' con le notizie, vi va? Cos'altro succede? No, posso dirvi? Ah, un'altra cosa che è successa oggi, così, particolare, nel senso, nel 1800, nel 1800, scusate, nel 1900, 1989, debutta su Rai 3, oggi, 17 aprile, Blob, ricordate la trasmissione Blob, quella lì, sì, quella lì, proprio quella lì, è presa, appunto, spunto, da un film, no, degli anni 60, proprio fino agli anni 50, sì, anni 60, comunque a me, Enrico Ghezzi crea questo Blob, appunto, questo mostro di tutto e di più, che fa gocci da tutto quello che passa nella televisione in quel momento e, insomma, se ci pensate, è una cosa che adesso su YouTube è normalissima, su TikTok non parliamone, sono stati fatti dei vari cloni dopo, no? Ma lì c'era anche tutta una questione più autoriale, no? Una ricerca di uno speccato del nostro, del nostro secolo, del nostro momento, della nostra vita, della nostra società. Blob che era un po' anche una meta a cui molti ispiravano, nel senso che si sperava di, o chissà se finisco su Blob con questa cosa, no? Cioè, che era proprio l'idea del... e forse anche lì poi il trash prende un po' più il sopravvento perché si era capito che, insomma, se una cosa era trash finiva più facilmente su Blob e quindi se ne mettevano di ogni, si cercava di fare, insomma, un po' di più di quello che forse era anche consueto e normale fare in televisione, a volte si esagerava un po' anche con l'intento di finire su Blob. Quello che dopo poi è stato striscianotizia, nel senso, l'immaginario, dovete pensare che è quella roba lì, nel senso, all'inizio, appunto, negli anni 80, fine 80, primi 90, se finivi su Blob vuol dire che ce l'avevi fatta. Adesso è un po' più... se finisco su striscia o se ne parlano magari quelli delle radio durante le loro rassegne, ce l'ho fatta. Ecco, insomma, tutto nasce un po' da lì, è un'idea veramente giusta, verrebbe da dire, di Enrico Ghezzi. Ovviamente la grande RAI di Angelo Guglielmi, che è stato uno dei grandi direttori della RAI e che in quel periodo, insomma, ne ha fatte di novità, ne ha portate di innovazione all'interno del panorama del televisivo dell'epoca, è stato di fatto che, appunto, il 17 aprile del 1989 debutta Blob di tutto di più, insomma, un inizio molto interessante, è passata alle ore 20, neanche alle ore 20, quindi in contemporanea con il telegiornale su RAI 1, c'era invece su RAI 3 Blob. E il Blob è un po' quello che c'è in giro anche in questa settimana, non lo sapete, fuori salone, salone, design week, tutto quello che volete, è pieno di gente, turisti, non turisti, gente che studia, gente che fa, vedo cose, vedo gente, faccio cose, vedo gente e questo è un po' il Blob che c'è in giro per la nostra città. Come si muoverà questo Blob? Speriamo più possibile con i mezzi pubblici o con le biciclette, ma si muove anche in macchina e allora dobbiamo andare a sentire, ovviamente, qual è la situazione del traffico in questo istante sulla nostra città, così che se siete in macchina in questo momento o se dovete uscire sappiate bene quale strada prendere. Lo facciamo grazie agli amici di Luce Verde che ci danno appunto la fotografia in tempo reale del traffico sulla nostra città. E allora a voi Luce Verde, come va questa mattina? Did I do? I do, do I love you, do I love you Bruce Springsteen alle 7.20 di oggi mercoledì 17 aprile 331-7853-555, il nostro numero di Whatsapp a cui potete appunto scriverci e l'ha fatto, ci ha scritto anche Alberto questa mattina con buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, buongiorno anche a te Alberto, giornate difficili perché si muove a Milano, uscite per tempo e considerate tempi di percorrenza più lunghi, mi sembra di essere l'app di ATM, è vero, scrive sempre così l'app di ATM, quindi sei pronto Alberto, se vuoi una seconda vita fare l'app di ATM sei pronto, diciamo che se si aprono i casting per fare l'app di ATM puoi farlo tranquillamente, ebbene sì, valutate di uscire per tempo e considerare tempi di percorrenza effettivamente più lunghi, di gente ce n'è in giro molta e tanta, inoltre si è spenta solo questa notte a mezzanotte l'allarme giallo per il vento a Milano, perché avete visto come ieri, insomma giornata molto ventosa ieri, che ha portato oltre a nervosismo generale che provoca nelle gente, perché devo dire che ogni volta che c'è il vento la gente se nervosisce, mamma mia, ero uno di loro, no, devo dire che c'era del nervosismo nell'aria che si muoveva tanto, devo dire, forse l'elettricità nell'aria provoca quello, oltre ad aver provocato emicranie a tantissime persone, mal di testa pazzesco dovuto appunto al vento, anche occhi lucidi, occhi che bruciano perché si alzava di tutto ieri, c'erano delle vie, ieri a un certo punto ero dalla zona Corso Buenos Aires, c'era una via che non mi ricordo come si chiama, piccolina, di fianco, era strapiena di pezzi di plastica che volavano in mezzo alla carreggiata, ma proprio piena, cioè una roba mai vista così, sacchetti che volavano ovunque, molto probabilmente li tirava un po' di vento, faceva effetto galleria del vento e tutto lì si andava ad accumulare. Sta di fatto che però sono stati anche tanti, tanti, tanti gli interventi delle Vigi del Fuoco, leggo appunto da Repubblica Milano, allerta gialla per il vento a Milano, decine di interventi dei Vigi del Fuoco, tra alberi caduti e stetti, e tetti sradicati. A Monza sono chiusi anche il parco e i giardini reali e sappiamo anche che a Cittisello Balsamo c'è stato anche un ferito grave per via di un pannello che è volato dal tetto del suo palazzo e l'ha colpito in pieno, quindi insomma anche situazioni pericolose. Fino a mezzanotte era stata appunto diramata l'allarme dalla protezione civile, l'invito come sempre a quello di non sostare sotto alberi nei pressi di impalcature e Deor adesso. Grazie per questo consiglio, non so chi è che quando c'è il vento si metta ad andare a ripararsi sotto un albero. Sulle impalcature già non è che posso evitarle, se ci sono e devo passare di lì cosa faccio? Non posso farci nulla, ma soprattutto i Deors. Allora, abbiamo riempito la città di Deor, quindi adesso non potete dirmi che sono pericolosi quando c'è il vento, non so come faccio. Passano i tombini? Cosa devo fare? È pieno, è pieno, ma non solo in centro, cioè ormai ovunque ci sono Deor, quindi insomma non è che posso dire che devono rimanere, perché io li amo alla follia, non me ne frega assolutamente niente, scusatemi la volgarità del termine, se mi hanno rubato posti di parcheggio, proprio zero, non mi interessa, trovate una soluzione, però devo dire che forse abbiamo un po' esagerato a Milano, come sempre, poi ci facciamo prendere un po' la mano, però che noi milanesi scopriamo nel 2020, diciamo che se ne abbiamo scoperti col Covid, poi li abbiamo tenuti bene, che quindi dell'estate 2023-2024, sono state le prime estati, saranno quando il 2024 e quando il 2023 è stata le prime estati grandi del Deor, insomma mi fa ridere quando in una città come Parigi, praticamente dagli anni 40 è così, cioè i Deor sono una cosa che ci sono ovunque perché vivi la città, quindi adesso va bene tutto, però attenzione se c'è vento forte a star vicino a Deor, passate nei tombini, secondo me il consiglio migliore è quello, passate nei tombini. E questo era Rino Gaetano, Rino Gaetano con Gianna, le 7.34 minuti ben ritrovati, bentornati per la seconda mezz'ora di trasmissione in nostra e vostra compagnia, good morning Milano 3317853555, grazie dei whatsapp che stanno arrivando, saluto per il buongiorno, buongiorno a Federico che ci scrive appunto al 3317853555, buongiorno a tutti e buongiorno Milano in questa giornata di fuorisalone, grazie Milano, sono tutti ossessionati da questo fuorisalone, non credo fosse una, no in realtà è arrivato anche un whatsapp, eccolo qua, è arrivato anche un whatsapp di, non è fermato, va bene, ok fa niente, però credo sia una ragazza dall'immagine di profilo, comunque dice buongiorno, good morning Milano, la giornata di quelle belle perché questa sera ho tanti eventi da andare a vedere del fuorisalone, viva Milano, viva il fuorisalone, qualcuno che difende il fuorisalone c'è, allora grazie davvero, per averci scritto al 3317853555, voi che ne pensate, viva il fuorisalone oppure viva il salone del mobile di Venezia, cioè che vanno dall'altra parte a farselo, no, trapperti c'è la Biennale di Venezia in questo periodo anche, sì, in contemporanea con la Design Week hanno inaugurato delle cose, ho visto, insomma abbiamo i nostri influencer che girano per il Nord Italia, ho visto che sono anche là, infatti Milano, sì, salone del mobile, no, salone del mobile, da che parte state? 3317853555, sì, questo è, ah ecco, arriva anche un whatsapp in questo momento che chiede buongiorno Fabio, ma tu andrai a qualche evento nel fuorisalone? Allora, io faccio un po', è un po' come a Natale quando non devi ascoltare la canzone dei Wham, no, quella lì, io cerco di non andarci, cioè se posso evitare, sinceramente grazie, eviterei volentieri, vi ringrazio tantissimo ma anche no, poi se sono costretto, vabbè, vediamo, per adesso ti dico, ieri appunto ero in zona Loreto, Buenos Aires, ho fatto un giro anche l'intorno delle vie, sono riuscito a non vedere niente, però insomma non ho neanche cercato, per fortuna, quindi insomma ero abbastanza fuori, fuori zona, distretto, ero un po' più in su, se vado verso l'Ambrate, oppure insomma di andare più verso il centro, ai giardini di Porta Venezia so che ci sono delle cose, ho intercettato un po' di fuorisalone settimana scorsa quando io ero in Statale per fare delle interviste e stavano montando, però tirato dritto, poteva essere una qualsiasi cosa che stavano montando, non voglio vedere, tra parentesi statale che ha visto i propri studenti protestare, parte degli studenti, protestare contro appunto la Design Week, perché al fuorisalone appunto, leggiamo da Milano Today, oltre alle installazioni del cortile dell'Ateneo arriva puntuale anche la protesta studentesca, tutti gli anni appunto protestano per vari motivi, quest'anno un motivo in più è quello, secondo gli studenti che hanno protestato, quella anche di raffigurare in un'installazione un carroarmato tutto fluo, un carroarmato fluo che sfonda un muro sul quale sono state scritte in varie lingue frasi di amore e pace universale, un'opera secondo gli studenti di cattivo gusto alla luce dei conflitti in corso in Ucraina e Palestina, effettivamente insomma non è proprio bellissimo vedere un'immagine del genere durante dei conflitti come quelli che appunto stiamo seguendo in questo momento. In più c'è parte della protesta che nasce sempre dal fatto di dire che tutto questo comunque complica la vita di studenti all'interno dell'Ateneo, complica la vita studentesca, il normale corso delle lezioni, insomma non piace a tutti devo dire, sono tanti però quelli che invece vanno e corrono in statale per vedere il fuorisalone. Paola e Chiara, furore, good morning Milano ancora voi qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus, le notizie dalla città, le curiosità, i vostri whatsapp al 3317853555 e tutto questo è il menu che ogni mattina dalle 7 alle 9 potete trovare qua appunto in nostra compagnia ma soprattutto come sempre in vostra compagnia. Leggiamo da Chiara della Sera Milano tagli ai fondi per i disabili, presidio delle associazioni sotto al pirellone e le opposizioni abbandonano l'aula, la regione intervenga. La Leda dice chiediamo ulteriori 10 milioni ipotesi anche di ricorso al TAR in consiglio regionale, presentato un progetto di legge per distruzione della commissione garante dello statuto. Ieri appunto alcune associazioni quindi che continua la protesta delle associazioni delle famiglie di disabili contro la regione Lombardia. Cuore della contestazione, il taglio ai fondi per le misure B1 e B2, destinate quindi a chi ha disabilità gravissime e gravi. Il provvedimento, che diventerà operativo da giugno, porta a 500 euro al mese il bonus per l'assistenza data ai caregiver familiari dei disabili gravissimi. E 550 euro al mese il sussidio per i caregiver di disabili gravissimi che frequentano invece la scuola, che finora pensate era di 700 euro. Quindi si abbassa tutto quanto, anche per i caregiver di disabili gravissimi di classe G il contributo scende da 750 euro a 600 euro. E quindi le associazioni dei familiari erano in protesta ieri appunto sotto il pirellone. La Leda chiede appunto altri 10 milioni di euro e dice a regione Lombardia chiediamo che intervenga e stanzi ulteriori 10 milioni di euro per fare in modo che anche per quest'anno le persone che hanno diritto all'accesso alla misura B1 non debbano entrare in una lista d'attesa per usufruire appunto di questo diritto in là nel tempo quando non si sa. Appunto queste sono un po' le proteste che sentiamo montare un po' da qualche mese ormai intorno al tema della disabilità e soprattutto dei caregiver, cioè dei familiari che devono aiutare i propri familiari con disabilità gravi o gravissime. Una su tutte, non me ne vogliono le altre, parliamo anche di Alzheimer perché sappiamo che c'erano tante associazioni che ieri protestavano che erano appunto nel mondo diciamo che gira intorno alla cura della persona e alla cura dell'Alzheimer. Quindi gravissima appunto disabilità che ancora una volta insomma molti si ritrovano da soli a dover affrontare senza un'adeguata copertura sia economica che ovviamente serve ed è fondamentale per pagarsi anche dei professionisti e degli specialisti che stiano al fianco di questi malati ma anche un isolamento di queste famiglie insomma sempre più sole e sempre più in difficoltà se non fosse grazie alle associazioni che vengono spesso e volentieri fondate da familiari, da caregiver, insomma da persone che vengono colpite di sponda diciamo da questa disabilità e che quindi sono colpite dal dover prendersi cura delle proprie persone, dei propri cari, dei propri parenti o volte e quindi l'unico cosa che rimane è mettersi insieme, cercare insieme di fare anche massa critica in un certo senso verso le istituzioni che è giusto che rispondano a questi bisogni ed è giusto che vengono anche pugnate appunto da queste associazioni e dai familiari che richiedono semplicemente semplicemente ciò che gli spetta. Talking about revolution Tracy Chapman e non è più rivoluzione se diventa consuetudine quella degli scioperi, dei mezzi, dei trasporti ebbene sì perché lunedì 22 aprile ci sarà uno sciopero che coinvolgerà il settore dei trasporti in particolar modo il personale di Trenord ebbene sì devo dire che ultimamente ATM c'è da soddisfazioni, non fanno gli scioperi lo fanno in maniera non troppo impattante invece Trenord devo dire che per chi arriva da fuori Milano, una volta era così no, 0-2 per chi chiama da fuori Milano, ecco adesso è Trenord per chi arriva da fuori Milano e non aiuta, non aiuta ad arrivare a Milano diciamo. Ovviamente lunedì, lunedì prossimo, sicuramente sono spostato per venire fuori salone perché se ci provavano questa settimana venivano precettati tutti quindi ovviamente è stato spostato lunedì prossimo, appunto sciopero lunedì 22 aprile che coinvolgerà il settore dei trasporti, in particolar modo il personale ferroviario di Trenord, leggiamo da Milano Today e Trenitalia anche, che sarà da rischio per 23 ore come ho comunicato appunto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'agitazione proclamata dalle sigle sindacali Orsr, Uyult, Uyl, Uyl scusate e Orsa Ferrovie è stata confermata dalle aziende interessate per quanto riguarda il trasporto pubblico locale TPL, quindi mezzi di ATM, lunedì 22 aprile, tutto rego, tutto rego raga, capito? Raga tutto regolare, tutto regolare, sì. I treni garantiti in teoria appunto dal lunedì 22 dalle ore 3 del mattino fino alla notte successiva è stato proclamato questo sciopero del servizio regionale Lombardia che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, il servizio regionale suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno quindi subire variazioni e o cancellazioni. Negli orari dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 potranno viaggiare i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti. Attenzione, ok? Nella fascia serale i treni con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 21 non potranno essere garantiti, cioè, traduco in italiano, se prendete un treno che passa dalla vostra stazione alle 6 ma comunque arriva alle 22 al capolinea finale dall'altra parte, quello non è garantito, ok? Il concetto è quello, diciamo così, ok? Quindi se il treno arriva dopo le 21 non è, cioè, non è nella vostra stazione, è alla stazione finale, quindi occio, non, eh ma io lo prendo alle 20 e 45, frega niente che ora lo prendi tu, mi interessa che ora arriva a capolinea. Se arriva dopo le 21, occio, occio che non è garantito. Dopodiché vorrei capire cosa cambia da una giornata normale in cui vengono cancellati praticamente una marea di treni tutti i giorni, quindi vorrei capire bene, non so, io magari me la faccio questa esperienza, lunedì 22, viaggio apposta su Trenord per capire cosa succede per lo shopper vedere le persone che si incazzano e lanciano le robe di qua e di là, no? Non lo so, vedremo. Sa di fatto che allora, segnatevelo bene appunto, il 22, il 22, cioè lunedì, shoppero proclamato dai vari sindacati, tra cui Will e Orsa Ferrovie, per quanto riguarda solamente i treni, quindi niente tram, niente metropolitana, niente autobus di ATM. Attenzione, poi vi dico sempre, date sempre un occhio alle altre aziende che gestiscono il trasporto, tipo autoguidovia e così, perché magari quelli fanno cose diverse. In teoria in cui no, perché è solo del comparto ferroviario, quindi tutto ciò che è su gomma o su binario, ma urbano, cioè i tram dovrebbero non avere ripercussioni, o meglio, ATM garantisce che non ci saranno quindi ripercussioni. Mi raccomando, lunedì, occio alle applicazioni varie anche di Trenord. E Cosmo, non lo so che cos'è l'amore, se non lo dici tu e fai una canzone, se fai solo domande, dammi una risposta anche. Questo era Cosmo con l'abbraccio alle 7.55 minuti qui su Crystal Radio, poco prima della nostra pausa, poco prima appunto di andare con il giornale radio e dopo avere qui i nostri ospiti. Quindi andiamo subito in pausa, ancora un po' di musica, poi il giornale radio e poi siamo qua ancora con voi con Good Morning Milano. Summary's Magic, anche se attenzione, non abituatevi troppo a questo caldo perché ce l'hanno detto, dovrebbe tornare il frescolino e l'estate non è ancora arrivata, quindi niente cambi degli armadi, mi raccomando. 8 e 11 minuti, mercoledì 17 aprile, bentornati qui a Good Morning Milano, bentornati in diretta su Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus e poi c'è l'App e tutto il resto che sapete benissimo come fare a seguirci anche il sito goodmorning.milano.it. Arrivata a trovarci la nostra ospite di oggi, diamo il benvenuto a Lucilla Pirovano, segretaria della funzione pubblica CGL Milano. Buongiorno Lucilla. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora parliamo di un tema che abbiamo letto nei giorni scorsi sui giornali, è un po' anzi che va avanti, ahimè non si risolve, quindi abbiamo voluto giustamente averti qui Lucilla perché parliamo delle scuole civiche. Un po' sul piede di guerra tutti coloro che sono all'interno, per una volta diciamo che la protesta è democratica in tutto, nel senso che proprio sono tutti sul piede di guerra, perché insomma sembra un po' minacciata l'istituzione della scuola civica a Milano, giusto Lucilla? Sì Fabio, le scuole civiche a Milano innanzitutto sono il fiero all'occhiello per il mondo della cultura nella nostra città, nel senso che hanno 3.000 studenti e formano nel campo del cinema, del teatro, delle lingue, dell'interpretariato e della musica il meglio che poi rappresenta l'arte non solo a Milano ma in Italia e anche in tutto il mondo. Sono 4 scuole di altissima formazione, famosissime nel mondo, una su tutte, se vi dico Lucchino Visconti, la scuola del cinema, Malaldo Grassi, l'altino Spinelli, sono veramente tantissime. Paolo Grassi, la Spinelli e poi abbiamo la scuola Bado di musica. La Bado di musica, insomma sono nomi di scuole che come dicevo prima, magari uno non collega direttamente subito alla scuola civica che poi sentiamo bene e capiamo che cosa sono, ma che poi quando va in giro e incontri quelli bravi hanno fatto quella scuola lì. Esattamente, hanno fatto una scuola che appunto è un grande elemento di merito e di prezioso per un comune che appunto tra le sue funzioni può esercitare anche quest'alta formazione. E qual è la differenza tra una scuola normale e le scuole civiche? Le scuole civiche, i nostri studenti, i nostri docenti dicono che non è solo un aggettivo ma un sostantivo, nel senso che l'idea che siano civiche non è solo un elemento formale ma è proprio il modo di fare formazione, che sia una formazione di qualità altissima ma che sia anche accessibile in termini di costi, in termini dirette e appunto sia pubblica dal punto di vista diciamo dell'idea di bene comune e dell'idea che si possano investire risorse pubbliche appunto per una formazione di questo tipo. Non è solo Milano. Soprattutto in queste materie è interessante perché sono materie che magari siamo abituati a volte a collegare a grandi scuole però private, a grandi rette milionarie quasi mensili e quindi insomma invece c'è una possibilità a Milano. Assolutamente sì. Dicevi non solo a Milano poi. Sì, non solo a Milano perché per esempio Parigi ha 18 conservatori, scuole di musica, Berlino ne ha due ma enormi e continuano a investire e a dare valore e a renderle sempre, a svilupparle. La nostra paura è che appunto il comune di Milano dentro i tagli, dentro un momento di difficoltà di quelle che sono le risorse per gli enti locali possa fare l'accelerata scelta di disinvestire su una realtà del genere. Una realtà che come dicevo in questo momento forma 3.000 studenti che non appena hanno finito o anche prima di diplomarsi trovano dei lavori importanti, vengono cercati sul mercato e appunto fanno opere grandissime. Per esempio fra le nostre delegate CGL c'è Marina Spada, una regista che tutti conoscono e che mi ricorda sempre quando facciamo le riunioni, quando parliamo, che lei, suo padre guidava il tram e lei ha potuto diventare la regista che è grazie alla frequenza della scuola Paolo Grassi appunto, che è una scuola a cui possono arrivare, c'è quella canzone che dice anche l'operaio vuole il figlio dottore, in questo caso anche l'operaio vuole il figlio regista, vuole il figlio attore, vuole il figlio che possa veramente avere una professione, una professione anche nel campo dell'arte e dello spettacolo. E tutto questo appunto è grazie al fatto che esistono queste quattro scuole, le famose quattro scuole civiche di Milano. Minacciate però appunto da dei tagli, da dei tagli che non sono inventati da voi, sono carta canta, sono già lì pronti in realtà, quindi bisogna anzi riuscire a fermarli in un certo senso. Sì, noi siamo convinti che riusciremo a fermarli, nel senso che appunto come dicevo sarebbe una scelta troppo sbagliata, sarebbe una scelta che assolutamente questa città non può permettersi. Sono scelte che il Comune ha messo in programma dentro i documenti contabili già per il prossimo triennio. Appunto la nostra lotta, come dicevi Fabio... Parliamo di tagli di che entità appunto, facciami capire un po'. Allora, noi stiamo parlando di un contributo che è di oltre 9 milioni di euro e che nei prossimi anni potrebbe subire dei tagli fino al 65%, nel senso che per il 2026 la programmazione al momento non arriva ai 3 milioni. Ok. 9 milioni di euro su quattro scuole non è anche poi questo contributo così alto, cioè mi viene da dire. Dentro il bilancio del Comune di Milano che è di 3 miliardi. Mille miliardi, infatti, 3 miliardi di euro insomma con i contributi che dai. Che è brutto dirlo, perché poi dici ma però alla scala date X contributi, che è brutto dire devi non darli a loro, darli a noi. Però effettivamente se ci pensi su altre situazioni i contributi sono ben più alti. Sì, dal nostro punto di vista ovviamente la cultura, l'investire sulla formazione devono essere delle priorità e la volontà politica che rivendichiamo e che ribadiamo che nella nostra lotta, che come dicevi Fabio, è una lotta di tanti, tutti insieme, quindi dei docenti, dei dipendenti stabili, dei collaboratori e tutti insieme, speriamo tutta la città, perché è importante che il nostro appello, la nostra lotta si allarghi e il nostro appello, valorizziamo le civiche. Stare con le civiche deve diventare, speriamo, una battaglia sempre più ampia e che possa veramente essere forte questa voce. E allora adesso invece ci freghiamo per un po' di musica, ma torniamo ancora a parlare tra poco con Lucilla, perché appunto questo mondo delle civiche è un mondo davvero interessante. Voglio capire di più, voglio sapere di più, perché veramente questa possibilità mi piace tantissimo quella del... anche l'operaio vuole il figlio regista, mi piace. Possiamo fare una sorta di remake di quella canzone, volendo. Nel frattempo invece andiamo con altra musica, sempre qui in diretta, 331-7853-555, il nostro modo di Whatsapp, grazie a tutti voi che ci state scrivendo, continuate a seguirci, continuate a seguirci anche dopo questo piccolo spazio musicale. Andiamo avanti con Zucchero insieme a Sting con September. Zucchero insieme a Sting con September, settembre. Non siamo a settembre, ma siamo ad aprile e invece raccontiamo un po' cosa sta succedendo nel mondo delle scuole civiche insieme a Lucilla Pirovano, che ci stanno raccontando appunto di questi tagli, a vostro dire, scellerati, pensate appunto dal Comune, e il 65% di tagli in tre anni, mi dicevi prima, giusto? Sì, sì. La programmazione, il PEG, il documento con cui la pubblica amministrazione, con cui l'ente locale va a programmare le uscite contabili per i prossimi anni, vede queste cifre. Cifre che ovviamente hanno spaventato noi, i lavoratori e gli studenti, e su cui appunto abbiamo aperto una vertenza e siamo in mobilitazione. Perché tutti quanti in mobilitazione gli studenti, i lavoratori, ed è importante questa mobilitazione in questo momento, anche perché fra un po' c'è una data importante per chi si vuole iscrivere invece alle civiche, giusto? Perché ne dicevi? Sì, perché tra aprile e maggio vengono aperte le iscrizioni per le selezioni per il prossimo anno accademico. Quindi è importante che le risposte da parte dell'assessore, da parte del comune, arrivino in tempi stretti e possano garantire la continuità didattica. Tranquillizzare chi vuole magari pensare a quel percorso anche. Sì, nel senso che è un percorso che è molto attrattivo, attrae appunto talenti. Quanti anni sono di studio per le varie civiche? Un anno solo, tre anni? Il punto è che noi vogliamo che le scuole mantengano l'appetibilità che hanno finora e che appunto anche tutti i corsi siano mantenuti in termini di qualità e di quantità. Mi dicevi, avete però fatto queste domande, ovviamente non è una prima volta che le fate qua, le avete fatte direttamente anche al comune. Cosa ha risposto e cosa dice il comune? Abbiamo incontrato lunedì l'assessore e il direttore generale del comune di Milano, l'assessore Sacchi, si è preso del tempo per trovare delle soluzioni. Noi contiamo... Perché tutto questo è in capo all'assessorato della cultura dei Sacchi, ok? Sì, è una fetta molto importante delle attività dell'assessorato. Ok. Gli ha detto... Fatemi pensare. Sì, ci ha detto che... Attendere, prego. Sì, noi diciamo contiamo che abbiano contezza e abbiano consapevolezza di quello che questa scelta conta, di quanto sia essenziale garantire questa continuità e questo futuro. Infatti l'appello con cui abbiamo il 19 febbraio, nel primo presidio, abbiamo scelto il futuro adesso, appunto perché un po' la formazione in generale attiene comunque alla sfera del futuro, della programmazione e dei progetti di vita. In generale noi crediamo che investire sulla cultura, investire in questi campi, sia davvero un investimento sull'oggi, sul domani e sul garantirci la città che vogliamo, in cui vogliamo vivere, in cui vogliamo studiare e lavorare. Oltretutto appunto il 19 febbraio avete fatto un presidio che non è rimasto l'unico perché adesso ce n'è un altro. Assessore, tu pensa, nel frattempo comunque ricordati che ci siamo qua e vi farete sentire quando e come. Noi martedì 23, settimana prossima, davanti al Consiglio Comunale, davanti a Palazzo Marino, faremo un grande presidio dalle 16 alle 19 in cui tutti insieme, perché Fabio dicevi siamo in tanti, ma l'unione fa la forza e quindi l'idea è che questa voce, questa lotta possa essere il più larga possibile. La cosa interessante è che sono scuole davvero di alta formazione, lo dice anche il nome della fondazione che gestisce appunto tutto che è Fondazione Milano, ma come dicevamo prima, oltretutto gente che quasi non ha neanche finito i corsi e che già sta lavorando. Il 95%, il dato è che il 95% degli studenti, tutte anche la scuola di lingue, trovatemi un'altra scuola a Milano che ha questa percentuale. Sì esatto, la scuola di lingue, interpretariato e traduttore, forma dei professionisti validissimi che sono ricercati nel mondo del lavoro ancora prima di diplomarsi. Insomma, vi fa capire appunto il livello che c'è dietro a questo mondo, mondo che potrebbe rischiare però appunto perché come dicevamo prima con questi tagli così forti, insomma sicuramente non deve essere semplice. Come sono stati giustificati questi tagli dal comune? Si sono stati giustificati? Dalla difficoltà diciamo di risorse, degli enti locali che con i tagli che sono arrivati anche dalle manovre del governo e in generale nei tagli lineari, purtroppo sono molti anni che la spending review, come l'hanno chiamata tutti i governi che ci sono succeduti in questi anni purtroppo non hanno investito sul mondo dei comuni, degli enti locali, ma al di là del tema della scarsità, della razionalizzazione delle risorse, per noi il punto essenziale è darsi delle priorità e per noi le civiche devono rimanere una priorità e non accetteremo nessun passo indietro in questo senso. Perché ve lo dico io, quando vi dicono che la coperta è corta, può essere anche vero, non c'è problema, e tu decidi però da che parte tirarla, quindi ce la puoi scegliere a quel punto, non c'è scritto da nessuna parte che vi per forza tirarla da questa parte qua, quindi insomma puoi tirarla dall'altra parte, puoi scoprire una parte e scoprire l'altra. In più forse poi potremmo cominciare a pensare anche a fare delle piccole coperte che coprono un po' qua e un po' là magari, che sarebbe una buona idea, perché insomma lo sappiamo, in una città come Milano dove girano milioni e milioni di euro, vedere cose del genere, fa anche un po' arrabbiare, diciamoci la verità, cioè con tutti i soldi che girano in una città come Milano, sapere che poi le civiche rischiano un taglio così forte, insomma, fa un po' girare le scatole immagino. Sì, noi riteniamo che appunto la scelta possa essere solo... No, no, va bene. No, no, assolutamente, noi riteniamo che questa città non si meriti, cittadini, questa possibilità per noi, questo disinvestimento non è assolutamente potabile e non è, diciamo, Anche perché poi quando c'è da parlare bene della città si tirano fuori le civiche invece, spesso e volentieri, sono fior all'occhiello della nostra città, quindi insomma che vengano rispettate anche in questo. Ci fregiamo un attimino, piccola pausa, due consigli per gli acquisti, perché anche noi in qualche maniera dobbiamo riuscire a campare con questa radio e poi torniamo ancora qui a parlare con Lucilla delle civiche, raccontateci, voi avete mai sentito parlare delle civiche, le avete mai frequentate? Diteci un po', 331-78-53-555, a fra pochissimo! E questo era San Giovanni con Raggi Gamma alle 8 e 36 minuti, ultima mezz'ora di trasmissione insieme e ancora qui con noi Lucilla Pirovano, segretario della funzione pubblica CGL Milano, parliamo di scuole civiche. Allora Lucilla, diciamo poco fa che appunto il presidio c'è fra pochi giorni, cosa succede di quando, come raccontacelo bene, in modo che magari insomma se vogliamo anche venire a darvi una mano, perché no? Sì, siete tutti invitati, assolutamente. Ci vediamo martedì 23 alle 16 in Piazza Scala davanti a Palazzo Marino. Con noi ci saranno tantissimi studenti, ci saranno appunto i docenti, ci saranno gli amici delle civiche, perché poi le scuole civiche hanno formato artisti importantissimi, ne cito solo uno, Gabriele Salvatores, che si è diplomato alla Paolo Grassi, Claudio Abado, la Serena Sinigallia e contiamo che anche tutti questi artisti, tutti questi amici possano darci una mano in questa lotta. Insomma, nomi non differenti quelli che hai fatto, davvero vi fa capire anche l'eccellenza appunto di un'eccellenza, scusatemi il gioco di parole, che Milano deve sicuramente salvaguardare. Dicevamo prima, poi una cosa che, a Parigi quanti ne andi dicevi? 18. 18, cioè capito, 4, adesso lo vedete tutto, 4 su 18, anzi, perché tagliarle, perché non fanno una quinta, mi verrebbe da dire, scusa, io esagero già subito, mi faccio prendere la mano. Tra di fatto comunque appunto, allora, questo presidio è martedì, giusto dicevi? Sì, martedì 23 aprile alle ore 16. Allora 16, dove possiamo trovare qualche informazione in più se vogliamo sapere qualcosa di più? Facciamo i nostri canali social, la funzione pubblica CGL Lombardia, sia su Facebook che sul sito. Poi invece, se qualcuno invece è interessato alle civiche, so che non è la tua funzione in questo caso, di fare proprio promozione per le parole, diciamo come funziona, adesso ci saranno le iscrizioni, mi dicevi? Sì, noi appunto contiamo di aprire le iscrizioni a brevissimo, come tutti gli anni, diciamo per tutti i corsi, tra aprile e maggio, perché poi ci saranno le selezioni e poi l'apertura è l'avvio dei corsi nel mese di ottobre. Ecco, hai detto selezioni perché appunto non è una cosa, cioè sono scuole di alta formazione, quindi giustamente c'è tutto, c'è anche un test d'ingresso, c'è immagino anche un colloquio motivazionale. Sì, sì, ci sono delle selezioni perché appunto la richiesta, la domanda è tanta e è importante comunque garantire la didattica, garantire, anche perché è una didattica che non è solo teorica. C'è anche la pratica e c'è tutto il lavoro sul campo che appunto ne fa i talenti, che costruisce talenti e forma, come abbiamo detto, il meglio di questo mondo. Dicevi quanti studenti ci sono? 3.000, circa 3.000 sulle quattro scuole. Circa 3.000 sulle quattro scuole, con più o meno una domanda che ogni anno arriva a quante persone che più o meno, nel senso cioè... Non abbiamo i dati sui numeri, però sicuramente c'è grandissima richiesta. E' fatta che appunto le selezioni sono belle? Non solo dall'Italia, ma anche dall'Europa, appunto è anche l'idea che gli studenti debbano progettare le loro vite, le loro scelte, anche in termini di mobilità, richiede dei tempi diciamo rapidi e che le risposte possano essere concrete e arrivare il prima possibile. Quindi Assessore Sacchi, mi raccomando, magari il 23, che già che sono lì, gli dia delle risposte, cioè deve scendere un attimo e basta, così fa prima. Anzi, sono così gentili, vengono a trovarla a casa, così almeno vengono a trovarla sotto l'ufficio, quindi ci mancherebbe. Lucilla, grazie mille allora, davvero. Grazie a te Fabio e grazie a tutti per l'ascolto. Rimanete comunque connessi appunto alle scuole civiche, cercate un po' delle informazioni, le trovate praticamente ovunque, anche sui canali social della Funzione Pubblica Cigelle Milano e grazie mille davvero e ci si vede allora il 23. Sì, ci vediamo il 23. E allora andiamo avanti con la musica, adesso è il momento di Giovanotti insieme a Beni Benassi che ci porta via con loro? No, no, ti porto via con me. Ti porto via con me. Giovanotti insieme a Beni Benassi, 8.43 minuti, Crystal Radio e continuiamo con un po' di musica, va bene, va bene così, non so cosa state dicendo, va bene, con un po' di musica. Ok, andiamo con le serebro, mi 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 mi. Andiamo con le serebro con mi 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 alle 8.46 minuti, qui su Crystal Radio Good Morning Milano e vi abbiamo raccontato un po' tutto quello che succede nella nostra città ma adesso è il momento di ballare, di cantare tutti insieme, di insomma muoversi perché siamo pronti per iniziare la giornata. Dopo di noi, lo sapete, ci sarà Ambrogio Curti con Senti Questa ma prima di ascoltare le belle canzoni e le belle storie della sua musica diamoci un po' di scossa, diamoci un po' di musica, diamoci un po' di energia per iniziare al meglio questa giornata. E quindi continuiamo con David Guetta insieme a Sia con Let's Love. Allora io ce la metto tutta per cercare di darvi la buona e giusta energia per iniziare la giornata, poi dovete metterci anche del vostro, cioè dovete fare in modo voi di trovare il giusto piede per iniziare la giornata, la giusta energia per iniziare un'ennesima giornata milanese che sicuramente non sarà facile ma sarà, dai, almeno divertente speriamo. Speriamo, ecco, io vi auguro oggi che sia una giornata divertente, non so, non proficua, fatturato, no, divertente. Questo vi auguro. 8 e 54 minuti, ben arrivati alla fine della puntata di oggi di Good Morning Milano. E beh sì, ben arrivati perché insomma bisogna arrivarci alla fine di questo percorso, bisogna arrivarci sani e salvi alla fine di queste due ore che tutte le mattine passiamo insieme. Insieme io, personalmente, io, me, medesimo Fabio Ranfi, arrivo salvo grazie alla vostra compagnia e grazie ai vostri whatsapp e grazie al fatto di condividere con me tutte le vostre mattinate. Quindi grazie davvero per ascoltarci tutti quanti i giorni. Dopo di noi, Ambrogio Curti, ebbene sì, senti questa. Chissà qual è questa che ci fa sentire oggi. In realtà ce ne fa sentire più di una e soprattutto ce le racconta, ce le spiega, ce ne fa appassionare, ci fa appassionare alla musica che tutte le mattine mette in onda dalle frequenze di Cristiano Radio dall'interno appunto di senti questa. Grazie a te Fabio e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi di averci per l'ennesima volta ascoltato e sopportato, ma soprattutto supportato, nelle lunghe mattinate in vostra compagnia. Un grazie ancora a tutti quanti e un saluto e ci rivediamo e ci risentiamo domani, sempre qui, in diretta dalle 7.09 su Cristal Radio Milano, FM 96.2, FM, Dapp Plus e tutto quello che volete. Ciao a domani!